Presentata a Palazzo Lascaris è la 27esima edizione della Touring Marathon che si corre il 17 novembre su un percorso variegato che sfrutta gli ampi viali torinesi. I 42 chilometri si snodano, oltre che a Torino, attraverso Moncalieri, Nichelino e Vinovo. La Maratona di Torino è tra le più antiche in assoluto, nasce nel 1897 come quella di Boston ed è tra le più importanti omologate dall'Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, IAF. Una duplice veste per la Touring Marathon, lo sport agonistico, i grandi maratoneti e lo sport per tutti, quello popolare. Sì, noi lavoriamo tutto l'anno con allenatori, tecnici, nelle scuole per portare gente a correre e per portare gente a andare sugli sci o a frequentare lo sport. Sappiamo che lo sport ci aiuta a ridurre i costi della sanità, a migliorare la qualità della vita e poi anche a conoscere le nostre città e le nostre strade.